L'attuale circolazione anticiclonica sta cessando da venerdì il Veneto strainteressato da una depressione in avvicinamento da nord-ovest tale da sancire un vero e proprio cambio di stagione puntualmente in corrispondenza della fine dell'estate e l'inizio dell'autunno dal punto di vista medio. Il venerdì sulla pianura crescente nuvolosità andando da sud-est al nord-ovest in prevalenza cielo da poco a parzialmente nuvoloso sulla costa parzialmente nuvoloso sulla pedemontana sui monti fino al mattino alternanza di nuvole e rasterinamenti dal pomeriggio nuvoloso. Sabato 29 sulla pianura nella prima metà di giornata cielo da poco a parzialmente nuvoloso andando da sud-est a nord-ovest nella seconda metà della giornata in aumento durante il pomeriggio. Per quanto riguarda domenica alternanza di nuvole e rasterinamenti con piogge discontinue in vari momenti della giornata più probabilmente fino al pomeriggio su zone montane e pedemontane le temperature in calo. Grazie a tutti!